La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente la questione relativa all'incandidabilità di Franco Metta e almeno per i prossimi dieci anni non potrà partecipare alle competizioni elettorali. Il sindaco di Cerignola Bonito lo annuncia attraverso un video sui social la sopraggiunta incandidabilità ai danni dell'ex primo cittadino Franco Metta. La Corte di Cassazione, la prima sezione civile, ha sentenziato confermando la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva dichiarato Francesco Metta incandidabile. L'ex sindaco di Cerignola, dopo essere stato dichiarato impresentabile dal Parlamento nazionale, è stato dichiarato incandidabile dall'autorità giudiziaria ordinaria. Questo significa che per i prossimi dieci anni e un po' di più l'Avvocato Metta non potrà più ricoprire cariche pubbliche. Era una pronuncia che aspettavamo da tempo e che è arrivata tardi. Grazie a tutti.